I concorrenti arrivano nuovi e mi prendono già in giro, cioè parliamo, si è seduto perché è altissimo, lo sciamano bianco d'altronne. Diciamo che voleva essere una cortesia. Io ti ringrazio per la cortesia, di uomini cortesi ne sono rimasti pochi, quindi io ti ringrazio per la cortesia, ma io voglio sapere dietro lo sciamano bianco chi c'è. C'è un 25enne nato a Milano, cresciuto a Pavia, abitante del mondo, Mirko Lamperti, però mi trovate su Facebook come lo sciamano bianco, seguitemi. Sciamano bianco, io sono stata, felicissima di sentire di sei, bravissimo. Voce, piano, forse è la prima volta che abbiamo una tastiera live su questo palco, quindi grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Ti sei divertito? Sì, 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 sì. Poi avere l'emozione di stare davanti a un pubblico è sempre bello, nonostante le cento date di carriera. Urca, giovanissimo con già un bel background alle spalle. Ci proviamo, ci proviamo. Allora ti auguro altre cento date e di più, perché no, cento date sono un po', quindi infinite. Ritornerò qua da voi. Ma noi ti aspettiamo a braccia aperte, grazie ancora. A zero a braccia aperte. Bravo, che citazione. Per incontrarti è un piacere in libertà. Perfetto, io con questa direi che una chiusura ottima, grazie ancora e salutiamo tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, sei un aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper? Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni inviando un sms al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto. Io sono già sul palco, vi aspetto qua. Bulli e Puppe Art Contest. Dal 19 ottobre, tutti i giovedì, al Libari Caffè di Voghera. Abbiamo finito questa pubblicità. Ah, non dire lassù che c'è quanto non c'è.